cosa faremo mai con una mela con della farina delle uova i capelli sono puliti facciamo una torta di mele come dice giulia totta e tutto e tutto e tutto allora facciamo una torta di mele cominciamo a pulire le mele ce ne servono 700 grammi pulite ah no 700.000 perché era un po' tosta la cosa 700 grammi pulite ma va bene iniziamo a tagliarle finemente e poi vediamo come procediamo va bene a dopo dopo aver tagliato tutte le mele pulite bene le prendiamo e le facciamo a fettine abbastanza sottili adesso mettiamo la farina andrebbe sitacciata ma io il cetaccio non ce l'ho mettiamo 16 grammi di lievito per dolci e mettiamo dentro insieme alla farina adesso prendiamo un'altra ciotola dovremmo rompere le uova e non solo no le uova solo le uova sono due uova quindi mettiamo le uova 200 grammi di zucchero ne mettiamo una parte e cominciamo a mescolare allora la prima parte dello zucchero l'abbiamo già incorporata non ti sento la prima parte dello zucchero l'abbiamo già incorporata adesso e andiamo ad aggiungere un cucchiaio per volta la farina che precedentemente avevamo miscelato con 16 grammi di lievito in polvere ci siamo? adesso l'impasto è praticamente pronto quindi una volta che il latte viene incorporato tutto possiamo spegnere e adesso togliamo l'impasto da sotto al piccolo elettrodomestico e aggiungiamo le mele tagliate stiamo assaggiando un pezzettino di mela molto buona adesso cosa dobbiamo fare? dobbiamo mettere queste pettine di mela dentro l'impasto stampo dal basso verso l'alto per incorporare bene tutte le pettine di mela che abbiamo a disposizione che abbiamo messo nell'impasto la torta è pronta per essere infornata forno statico a 180 gradi per 55 minuti bene la torta di mela è uscita dal forno e questo è il risultato non lo tocco perché scotta secondo me è veramente buona abbiamo messo un po' di zucchero sopra con sparso per dargli un po' quella nota dolce e croccantina alla prossima ricetta ciao ciao